a tutti bentornati sul mio canale oggi apro insieme a voi un pacchetto che mi è arrivato da zalando era un po che non acquistavo da zalando e ho preso due cosine che mi piacciono tantissimo ecco qui adesso ve le faccio vedere da vicino la prima cosa che ho acquistato ed è della nivea l'ho detto a let non sapevo dell'esistenza di questo profumo e sono rimasta meravigliata appunto perché è il profumo della nivea che io adoro come crema non l'ho mai usata però la usava la mia mamma tutte le mattine e quindi mi ricorda la mia infanzia mi ricorda le coccole che facevo con lei perché il profumo della sua pelle del suo viso era era buonissimo quindi ogni tanto ho una piccola scatolina di nivea e ogni tanto la apro la prendo dal cassetto e mi metto ad annusarla e ho il ricordo appunto della mia mamma che qualche anno che ormai non è più con me e devo dire che nonostante ho visto su youtube che molti ne parlano male di questa crema io devo dire che mia mamma si è sempre trovata bene è arrivata a 80 anni quasi e aveva una pelle bellissima non aveva rughe o erano proprio piccolissime e quindi e quindi niente è una crema che sicuramente a lei piaceva molto io l'ho usata per qualche tempo poi poi ho smesso perché la mia pelle non non assorbiva bene quella quella crema però ripeto il profumo è rimasto nei miei ricordi quando ho visto appunto che c'era proprio l'ho detto a let l'ho acquistata ho guardato anche su amazon la vendono però sua su zalando era un po scontata quindi ho preferito prenderla appunto su zalando adesso apriamo e vediamo un po' se effettivamente è simile al profumo allora è arrivata in due giorni la consegna e oggi è il mio compleanno e devo dire che è un ricordo bellissimo della mia mamma e non c'è il giorno migliore per riceverlo questo è l'interno della scatola come potete vedere è bellissima anche la scatola questa è la latta dove c'è dentro il profumo eccolo qui questo è il profumo allora l'ho spruzzato un po' sul polso e devo dire che è uguale al profumo della crema è molto più intenso quindi si sente ancora di più io purtroppo la descrizione non posso farvela però i ricordi ecco mi salvano la mente e quindi è la mia mamma e la mia infanzia eccola qui sono contenta di aver fatto questo acquisto e di averlo trovato anche la custodia è bellissima in latta è proprio una crema gigante bello davvero l'altro acquisto è la palette della bella e la bestia della Disney oh bellissima la custodia è stupenda è anche bella pesantina e qui ci sono i colori allora qui c'è scritto bonjour qui sei il nostro ospite qui Maurice vero amore questo invece è un racconto di tempi passati e questo qualcosa lì e poi ci sono anche gli ombretti con i vari nomi bellissimi arrivano coperti da una fogliettina di trasparente bellissimo una storia di incantesimi adesso vi faccio vedere un po' di colori vediamo un po' come sono allora vi faccio vedere Plivery che è quasi un dorato bellissimo bellissimo petal wow che bei colori proviamo con rose bellissimo anche questo bello bello proviamo il giallo wow molto belli proviamo il chip ho un bel arancione best Gaston mettiamolo qui oh bello Gaston mi piace anche questo è bellissimo bene ho riposizionato la velina così non si rovinano e niente devo dire che mi piace tantissimo molto bello allora volevo dire ancora qualcosina sul profumo lo sto sentendo è bello si sente intenso dolce quindi a chi ama i profumi dolci lo consiglio e niente quindi queste sono le due cosine che ho acquistato appunto da Zalando e mi sono trovata bene perché erano entrambi scontati e la spedizione è stata velocissima e quindi niente con queste due cosine vi saluto spero che il video vi piaccia vi piaccia e se si lasciate un like e iscrivetevi al canale ci vediamo in un nuovo video ciao proviamo anche questo bellissimo 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 anche questo bellissimo anche questo bianco sulla mia pelle si vede anche bianco bello bellissimo 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 Grazie.